Ciao a tutti sono Luca di Double Clutch e questa è la presentazione della scarpa Nike PG3 Sono super super contento di avere in mano e al piede la nuova signature shoe di Paul George Sono super contento perché è tantissimo che la stiamo guardando ancora anche qua dai primi leaks Dove per assurdo anche qua è andata bene fin da subito oserei dire Fin da subito abbiamo anche detto che come silhouette era molto molto simile alle precedenti e anche alle Hyperdunk Citando il buon Francesco qua the violence behind the camera possiamo dire che questa nuova PG3 è un Hyperdunk che ci ha creduto Perché effettivamente che ce l'ha fatta ce l'ha fatta ci ha creduto e ce l'ha fatta Dicendo queste cose mi è un po' venuto il mood alla Gianluca Gazzoli che salutiamo e ringraziamo Che è sempre il primo che spinge per appunto questo mood di voler raggiungere i propri traguardi personali I propri desideri e portarli a buon fine infatti così è stato nel senso che anche questa PG è una scarpa Che da subito ha voluto far sapere che c'era anche lei È arrivata con questa colorway che tra l'altro sto swaggando con un pezzo della tracksuit perché ovviamente Nella parte sotto ho il jeans mentre nella tracksuit originale della serie NASA di PG appunto per NASA C'è anche il pantalone mentre al piede come avete già visto ho la BHM come colorway Adesso sto facendo un sacco di preamboli su queste colorway perché mi gasano veramente tantissimo Avete già visto comunque in caso andatevi a vedere i nostri unboxing dove racconto bene tutto quello che riguarda la colorway Qua parliamo invece di presentazione tecnica iniziando come sempre dalla traction Per questa nuova silhouette di Paul George abbiamo un'attrazione con un pattern diciamo a cerchi Diciamo così per non usare troppe chemics troppe cose particolari In generale è un'attraction che promette molto bene perché comunque i pattern in realtà concentrici Quindi non proprio così sono stati utilizzati in tantissime silhouette Questo proprio con tutti i cerchi con tutti i dots insomma punti separati È molto che non lo vedevo non mi viene neanche in mente dove l'avevo già vista Ma comunque è lo stesso pattern che viene riproposto in tutta la lunghezza della suola Con diversi diametri in diverse zone ma più o meno siamo sempre lì Una cosa strana che vi invito anche a considerare e darmi anche il vostro parere è che nella parte esterna della scarpa Infatti la stavo guardando poco fa che Francesco mi stava guardando come che cavolo stai facendo Stavo guardando proprio che nella parte esterna della scarpa c'è invece la suola completamente liscia Mentre in quella mediale quella interna abbiamo il pattern di trazione che sale Vi giro la scarpa proprio al contrario sale invece verso eccola così Verso quella che è l'intersuola proprio perché secondo me ditevi anche voi la vostra Perché nei gesti tecnici soprattutto dei piccoli quindi delle guardie stiamo tanto sull'avampiede Ma anche tanto sulla parte interna perché il footwork dei in generale del giocatore di basket Ma anche e soprattutto dei giocatori piccoli e veloci sta tanto sulla parte mediale del piede Per quanto riguarda l'ammortizzamento non c'è veramente nulla di nuovo in questa PG L'intersuola è tutta in Phylon, in Injected Phylon che è il carrier che appunto porta le tecnologie come Zoom o React Che vengono invece inserite all'interno dell'intersuola stessa Qua abbiamo lo Zoom Air nella parte anteriore È una borsa comunque bella grossa che si riesce a percepire molto bene Lo sto sentendo bene anch'io che ce l'ho al piede da poco E si sente tantissimo proprio spostando il peso sull'avampiede come la borsa di Zoom Air Che secondo me dovrebbe essere un 11 mm di spessore perché si sente veramente tanto E si sente la reattività che ti dà Lo ripetiamo, l'Injected Phylon che è il carrier quindi tutta l'intersuola È un Phylon, una EVA con aggiunta di aria sparato dentro ad uno stampo Che non è la stessa cosa del Molded Phylon Sono cose molto complicate di cui probabilmente non mi frega niente Perché mi dite sempre che uso troppi tecnicismi e troppi inglesismi soprattutto Ma per dirvi questo Phylon è molto leggero E ci lascia percepire molto lo Zoom Air Che invece è la parte che ci dà più percezione di reattività Quindi il Phylon ci protegge dagli impatti, lo Zoom Air ci dà quella sensazione di reattività Per quanto riguarda i materiali anche qua oserei dire nulla di troppo nuovo da parte di Nike Basketball Perché abbiamo mesh in tutta la lunghezza della scarpa Con degli arricchimenti, degli overlay insomma in materiale sintetico nella parte sia esterna che interna Quindi sia mediale che laterale E appunto anche materiale sintetico nella parte dietro Ma in generale è tutto per design anche perché non abbiamo più lo strap come nella PG 2.5 e nella PG One Secondo me è un bene ma ve lo dirò dopo il perché Tornando in materiale abbiamo anche un rinforzo, una parte ovviamente anteriore dove c'è più rischio di usura Quindi secondo me è costruita bene anche perché questo mesh è un po' come il mesh della Kyrie per dire Ma è anche quindi abbastanza rigido e abbastanza duraturo Ma è anche un po' più morbido della stessa signature di Kyrie Irving E il che ci dà anche una buona percezione a livello di calzata quindi di fitting Proprio in termini di calzata vi posso dire che la scarpa secondo me veste true to size Ne sono molto molto felice perché in tutte le PG precedenti ho avuto personalmente abbastanza problemi Per la calzata molto stretta soprattutto per quanto riguarda la parte anteriore Da qua che volevo arrivare Lo strap sicuramente ci dava qualcosa in più in termini di supporto In più in termini di proprio di chiusura della scarpa Ma la calzata a mio parere ne risentiva abbastanza come qualità generale Proprio perché andava veramente benissimo e va benissimo perché è ancora sul mercato la 2.5 Per chi ha il piede magro o chi comunque vuole sentirsi una scarpa bella aderente sul proprio piede Ma per tutti gli altri magari chi ha il piede largo o chi vuole essere un penino più confortevole Sicuramente questa silhouette senza appunto lo strap ci dà un po' più di libertà E già dalla prima calzata ve lo assicuro non si percepisce nessuna compressione a livello anteriore Pur essendoci questi overlay ovviamente in cui sia nella parte esterna come vi dicevo prima Che in quella interna che ci danno un po' di chiusura in più proprio nella parte anteriore Dove c'è più bisogno di supporto ripeto per i giocatori che sono molto veloci molto scattanti E che tengono tanto peso sulla parte anteriore del piede Mi sono perso calzata supporto scusatemi mi ero un attimo perso Nel supporto appunto non abbiamo più lo strap ma come al solito quello che riguarda la protezione in sé Soprattutto in una scarpa a taglio basso come questa è importante qua a livello del tallone Quindi nella zona posteriore dove abbiamo il nostro heel counter Che è una struttura inserita dentro quindi che non possiamo vedere Quindi non è questa cosa nera che vedete che è solo un overlay Anche qua un tessuto in più per diciamo abbellire quella che è l'estetica della scarpa È inserito qua dentro il supporto in TPU e ci tiene ben stabile all'interno della base d'appoggio della scarpa Nei movimenti che interessano il tallone che appunto sono i movimenti nel basket E per i giocatori soprattutto per i giocatori leggeri nel frangente difensivo Per quanto riguarda il supporto a livello di suola e intersuola abbiamo una suola bella larga Suola e ripeto intersuola che anche questa aumenta la superficie d'appoggio E quindi ci dà più stabilità in tutti i movimenti tecnici che interessano il gioco del basket Per il resto ovviamente la calzata aiuta tanto in termini di supporto Perché se io ho una calzata sicura, una scarpa costruita bene in termini di silhouette Quindi di forme che non lascia spazi vuoti, che si riesce a allacciare bene Che chiude bene la parte posteriore e quindi rimane ben aderente al piede in tutte le nostre fasi di gioco Abbiamo anche una calzata e quindi una scarpa che ci dà supporto sempre e comunque Come considerazioni finali e personali su questa nuova RPG Beh esteticamente ragazzi secondo me questa colorway è davvero da panico Vedo Francesco là dietro che muove la testa in segno di approvazione E non c'è veramente altro da dire Anche questo Remove Before Flight che sinceramente mi ha dato tanto fastidio a girare questa presentazione Perché continuo a spostarlo È abbastanza faticoso ma è bellissimo ed è presente solo in questa colorway NASA Che non me l'aspettavo ma è andata sold out Se non sbaglio è rimasta una taglia ad oggi quindi a due giorni dalla release Siamo veramente contenti appunto del sell out quindi della vendita di questa PG E già qui sapete che nella prossima top 10 sarà importante Perché vi ricordo che abbiamo fatto uscire la top 10 del 2018 Andatevela assolutamente a vedere se non l'avete vista E vi ricordo che appunto nella top 10 è stato molto importante Quindi è stato valutato sia il mio parere che il vostro parere Ma anche il sell out quindi la vendita generale del prodotto in questione E per quanto riguarda anche l'altra colorway Scusami se ti faccio ritornare sempre qua Però ragazzi la BHM secondo me è una collezione incredibile Da notare in questa PG che i talloni quindi le grafiche nella parte posteriore Sono diverse è una cosa spettacolare Vabbè basta chiudiamola con la colorway perché ho parlato veramente troppo Parliamo invece di quello che è il retail price 10 euro in più rispetto alla PG 2.5 Quindi abbiamo un retail price di 121 euro Sia leggermente alzata avrei sperato che non fosse mai successo sinceramente Perché a 111 euro è una scarpa assolutamente da avere A 121 sinceramente resta una scarpa da avere Fatemi sapere voi cosa ne pensate anche del retail price Tornando a noi comunque è una scarpa completa Va veramente benissimo per tutti Finalmente hanno aggiustato questa cosa della calzata Il che la rende assolutamente utilizzabile da molta più gente E quindi per me è assolutamente un top di gamma Direi che vi ho detto tutto Mi raccomando seguitici anche per le nostre rubriche live Il martedì alle ore 19 per il Q&A live Che adesso c'è anche in podcast Per chi non avesse voglia di seguirlo su YouTube O su Facebook o su Instagram Quindi basta non scaricare ma ascoltarlo E quindi iscriversi al canale podcast oppure Spotify E il venerdì alle ore 12.45 abbiamo sempre il nostro unboxing live Dove unboxiamo, vi facciamo vedere le bombe che sono arrivate in settimana Ma anche che lanciano il sabato Direi che vi ho detto tutto Grazie mille per il supporto E alla prossima